Si convinca, lei non ha nulla che non va. Fisicamente è tutto a posto. Hai visto, amore? Stai bene. Lo dice anche la dottoressa Ciurli. Magnaghi Ciurli. Eh sì, mi scusi. La dottoressa Magnaghi Ciurli. Il suo è solo un problema psicologico. Deve imparare... A scaricarsi dai problemi quotidiani. La mente deve essere totalmente libera durante l'amplesso. Lei come lo fa? Eh, in che senso? Come fa a scaricarsi. Eh... Lei pratica sport? Ah sì, il tennis. No, intendevo sport spirituali. Il calcio. Più spirituali. Mai sentito parlare del kendo? Gendo? Gendo! Grazie a tutti! Grazie a tutti!